Il vero, il blu, il vero, il giallo, il rotto, il nero. Tutti e tre artisti, a parte di manco è un bainino. Così esce sempre più chiaro. Eh. Io ho finito. Tu hai finito. Allora. Chi puoi fare qui? No, si può fare con la mano. No, a parte qui o è qui? Potrei accendere. Ah, d'accordo. Allora va bene, benissimo. E a me mi piacciono molto questi pennello. Questi vuoi il nero. Il nero? Ah, questo? Ah, no, no, è questo. No, sono entrambi. Ah, sì. Questo è quello scuro e questo è quello più chiaro. Vuoi un po' questo. Allora, aspetta. Questa è la passione per il nero. No, quello è forte. Sì, capisci? Quanto è bene. Non so, però. Non so, però è bene. Non so, però è bene. Basta. Tu? E noi lo veniamo tutto, calmi, calmi. No, ma questa è la dei miei. Non credo fare male. No, non credo fare male. Salutiamolo tutti, mettiamolo in protezione. No, hai visto tu? No, no, no. Sì, 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 mail. Sul nome e telefono. Ok, ok. Sì, sì, ma tutto. Sempre. Sempre. Silenzio. Il maestro vuole un po' di musica per tirare. Il piano sta pensando. Il piano sta pensando. Il piano sta pensando. Il piano sta pensando. Sì, sì. Sì, bravo. Sì. Così? 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 C'è chi si è voluto? Il professor. Questo qui e questo? Sì. Ha fatto bene. Un po' di questo rotolato va bene. È meglio piatto. Troppo forte, però va bene. Non è buona. È meglio piatto, però. È certo, è certo. Ci vuole il nero? Ma pure la copia. Va bene, Lucio mi ha chiesto il nero, io chiedo il nero. Emanuele, che ridi? Questa è una cosa seria. Dove continuare? Sì. Però ti stai mantenendo sul calmo. Sì. Non la faccio. Ma ora è il peso della storia. È difficile. Questa è la firma. Questa è la firma. Questa è la firma. Questa è la firma. La firma è la firma. Gian, tocca a te. Allora... Però non copiare. Una forse. Io firmo qua. Ah, perché dobbiamo firmarlo. Ma non l'abbiamo finito ancora. Emanuele vuole. Emanuele, tu volevi dipingere un altro po'. E' la verità. Emanuele. Vai, ma... No, là, così. Aspetta. Aspetta. Aspetta che bella firma che ha fatto. Ah, l'ha fatto è qui. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, perché... Io prendo un po'... A che... Colore? La fondazione. Cargalletta. Aspetta. 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 Sì. Sì. Ma noi abbiamo messo il blu. Sì. Sì. Eh, Adriano. Questo è blu. Questo è blu. Ah, è blu questo? Sì. Sì. Sì, sì. Dove devo... Tu è qui? Qui. Qui. Qui è bello, no? Eh. Dove lo fa? Dove lo... Oh, qua. Oggi tu vuoi. Sì, sì, sì. Però io non ho mai firmato questa cosa. Nervoso. Faccio la firma mia? Sì, sì. Perché ho visto che era uscita bella. Eh, è lui. Ah, ma ti muove. No, la... È difficile. Ah, la punta è un po'. È ben vincita, eh. Dopo fare una firma di artista. Non è una firma, diciamo. È che nervoso. No, no, tutt'anni. È che nervoso. Eh? No. Bello. E come... Ma non vi allora. Ma non vi allora. Ma non vi ancora. Ci manca il danno. 2011 sopra. Vuoi metterla tanto? Sopra. Sì. No, è qui. Sì, sì. Fai eh? Sì. Il massimo dato che è divino in arrivo. Per 10. Per 11. europea durante la mo Church Canada. Esatto. Si, mi hanno fatto tantissimo? Eh, ma. Giusto, esatto. E poi mi serve il decreto. Stop. Si. un quarto d'ora posso cambiare pure colore un segno grafico un segno grafico si perché così con le linee sarà una salata si perché è più libero quando lavora due storici buono buono ma sentiamo la piccola qua un segno vediamo cosa ha fatto c'è qualcosa c'è ci ha dato uno schiaffo morale mi hai visto Gian ah sì ah sì ah beh bellissimo brava Giovanni questo sarà messo qui sì la fabbrica per noi sì 2011 io aggiungerei anche la data eh lo vogliamo aggiungere maestro la data completa no? 5 ottobre facciamo quinto di ottobre di ottobre ma è cosa non ho mi hai visto non ho mi hai visto non ho oggi sono cinque allora tu dovresti scrivere qui cinque chi ha detto? 5 ottobre 2000 l'ha già scritto lui ha scritto lui è uscito un po' male l'ottobre no no non è finito questo non si può prender niente perché è messaggio sta bene